Benvenuto nel nostro canale, quindi arriva un nuovo giorno e abbiamo la possibilità di incontrarci di nuovo, ne siamo davvero felici. Vorremmo trascorrere un Natale molto sereno, caldo e gioioso con la famiglia, e i nostri cari. Oroscopo pesci di oggi due punti previsioni del giorno 11 dicembre 2020 segno fortunato. Ottima giornata su tutti i fronti sarà perché è venerdì e questa settimana, breve ma intensa, si conclude a vostro favore, vale a dire con la luna abbracciata a venere in segno d'acqua come il vostro, in buona amicizia con urano in se stile. Dunque, per quanto riguarda il fronte del cuore, potete dormire tra due guanciali, la persona a cui pensate sempre più di frequente ricambia i vostri sentimenti, e i tam tam di messaggi che vi uniscono, sono più eloquenti perfino di un bel gioco di tarocchi. Venone anche il lavoro, garantito dal sole, e da mercurio allo zenith. Se poi i guadagni li sperperate in sciocchezze, regali stratoserici o alimenti gustosi ma ipercalorici, questo sarà affar vostro, la giornata per voi depone al meglio, con una serata che vi introduce dolcemente a un altro weekend, il penultimo prima delle feste, perciò usatelo bene senza fare sciocchezze. Astro tarocco del giorno per pesci tre bastoni una copia molto unita, virgola i partner si amano e pensano al futuro. Copie che trovano equilibri nuovi e interessanti per far crescere il proprio amore. I single possono sperare di incontrare persone giuste che li amaranno e sapranno creare le condizioni per unioni molto forti. Particolarmente buoni i rapporti con fratelli, cugini e zii. Avrai tanto lavoro da sbrigare. Sarai bravo e gli altri ti stimeranno. Abbiate più cura delle vostre cose, e non lasciate nulla di intentato pur di avviare un progetto, che avevate in mente qualche tempo fa. Buone prospettive per chi decide di mettersi in proprio. Qualsiasi cosa intraprenderete, avrà un discreto margine di successo. Sappiate qualificarvi al momento opportuno e seguite il vostro istinto. La vostra vitalità crescerà con il passare della giornata in un crescendo che vi renderà frizzante e magnetici agli occhi degli altri. Attenzione a qualche scherzo che vi potrebbero tirare. Orizzonti nuovi si potrebbero spalancare improvvisamente davanti al vostro cuore. Cercate di rimuovere vecchie sofferenze e vecchi ricordi che vi hanno appesantito nel tempo. Non confidate alla prima persona i vostri problemi, e le vostre difficoltà. Due punti non solo non riuscirebbe a capirli, ma potrebbe mettervi in serio imbarazzo non mantenendo qualche segreto che per voi è prezioso. Nuove conoscenze all'orizzonte. Tuttavia ti sentirai nostalgico e malinconico. Potrai fare ottimi affari. Regala qualcosa di speciale alla persona che ami. Benefici dall'estero o attraverso persone straniere. Intuito molto forte.Nuovi inizi. Idee originali. Goditi un meritato riposo se ne hai l'occasione. Il sole allo zenit si comporta come un faro, determinato a illuminarvi la via da percorrere, quella della spiritualità. Bando dunque ai guadagni facili, e alle spese esorbitanti, la vera ricchezza è quella del cuore e ora finalmente ne siete pienamente consapevoli. A farvi buon gioco anche venere acquatica intrigono e urano in se stile, le ispirazioni non vi mancano, e il colpo di genio si manifesta quando meno ce lo si aspetta. Amore ed Eros. Vicino o lontano l'amore è sempre incollato al vostro cuore, non c'è distanza che tenga, cupido alle ali e corre nel vento alla velocità del suono. Dunque nessun problema, nemmeno col distanziamento, e la chiusura delle regioni, chi ama davvero saprà aspettare. In ogni caso la tecnologia vi viene in aiuto e tra smartphone, webcam e whatsapp potreste passare 24 ore su 24 insieme, anche a chilometri di distanza. Il bel rapporto celeste, che si stabilisce tra i vostri pianeti numi tutelari, luna, giove, venere e nettuno, vi predispone a mutare la vostra condizione sentimentale essendo assistiti dalla fortuna. Se siete in un rapporto di copia stantio, sfrangiato o lavorato dal tempo, i tre astri vi daranno le occasioni giuste, fauste, per venirne fuori. Se invece i vostri sentimenti sono ancora intatti, vi daranno la forza per rinnovare e far risorgere passione, desiderio, volontà di venirsi incontro. Lavoro e denaro. Candidati al successo, un po' meno al guadagno ma avanzare nella scala gerarchica, fare carriera e collezionare successi è già una paga che non ha uguali e dei bigliettoni non potrebbero mai tenerle dietro, anche perché in ogni caso li avreste già dilapidati tutti quanti. Buone notizie riguardo a un colloquio di selezione sostenuto tempo prima, non ci credereste, ma siete già convocati per la seconda prova, dopo la Befana e il verdetto. Il tan dell'una, venere, nel segno amico dello scorpione, con plutone nel segno fidato alleato del capricorno, vi aiuta a difendervi con la forza della parola chiara e precisa con chi vorrebbe non darvi il giusto valore in ufficio. Specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal 20 al 27 febbraio, sarete particolarmente lanciati verso un atteggiamento grintoso, che mira a chiedere dagli altri il rispetto che meritate. Gli astri vi fanno poi ottenere giustizia e vincere su tutta la linea nelle richieste, e nelle rimostranze che andrete a esprimere. Benessere? State benone, a parte la raucedine che penalizza i fumatori, ma questa è una scelta vostra, se vi piace la voce roca e la considerate sexy, continuate pure a fumare, altrimenti chiedete l'ingresso nella metà intelligente dell'umanità, voltando le spalle a quella autolesionista. Di pari passo bellezza e abbigliamento, scegliendo la linea giusta e i colori adatti al vostro tipo soggerete un'eleganza assolutamente personale e inimitabile, così come inimitabili siete voi. Per lei? Telefonate a getto continuo dalle amiche residenti lontano, difficile incontrarsi quest'anno, ma la vostra amicizia non ne risentirà, anzi, valutando il numero delle vostre chiamate risulta chiaro che vi sentite anche più di prima. Per lui? Se non potete vedere persone care lontane, inviate almeno loro dei pacchi un pacco carico di regali, dolciumi e prodotti nazionali, sarà come andare a far loro visita o accoglierli a casa vostra, fermo restando che non appena il mondo avrà riguadagnato la normalità, il primo stezzerà l'acquisto di un miglietto aereo. Colore delle emozioni. Rosa pesca. Barometro dell'umore. Soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10. Attività. 10. Finanze. 9. Benessere. 10. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.